L'amore non è difficile da incontrare, ma è raro che ci sia chi lo mantenga. Il girone dei dannati o paradiso artificiale, noi lo aspettiamo da qualunque parte venga. L'amore non è una passeggiata quando c'è la luna, l'amore non è soltanto una questione di fortuna. E non è mai puntuale, ma si sente dove c'è, potrebbe essere nato quando mi hanno presentato te. E gli entusiasmi spenti per certi pentimenti non spiegano nuove correnti. E c'è qualcosa ancora da offrire a chi verrà, ascolta il motore che va. Ricominciamo, non so come ti chiami e già ti amo. Risollevati ancora, viva forza, ci aspetta un altro giro, un'altra corsa. E ce ne andiamo, ancora non so dove, ma partiamo. In contro a certe aurore boreali, tanto abbiamo già pagato le cambiali. E l'esperienza spinse a dei propositi più miti, e noi sempre più incoscienti quanto più siamo feriti. Ci bussano alla porta, ma non dicono chi è là, e intanto ci troviamo con un'altra personalità. E noi cambiamo aria, ma dentro alla memoria, ci sono i ricorsi di storia. E c'è qualcosa ancora da offrire a chi verrà, ascolta il motore che fa. E si ripete, abbiamo già bevuto e abbiamo sete, abbiamo ancora un briciolo di forza. Ci aspetta un altro giro, un'altra corsa. E si riparte, che ci hanno dato ancora nuove carte, un poco di speranza è ancora attorno. E rinnoviamo il visto di soggiorno. Ci siamo stati né soddisfatti e neanche rimborsati, ma abbiamo ancora rose nella borsa. Ci aspetta un altro giro, un'altra corsa. La piccola nave partita da Villa San Giovanni attracca a Milazzo. Una breve traversata, l'ultima del grande marinaio, che sta approdando al paese dove era nato nell'ottobre dell'87. Luigi Rizzo è il piroscafo, come l'uomo che giace nella bara, sotto la feluca e la spada. Lo accompagnano le sue medaglie, due d'oro e quattro d'argento. Luigi Rizzo era partito di qui, ufficiale della marina mercantile. Vi torna per sempre ammiraglio, eroe della patria. Non è sprecata per lui la parola eroe. Seguono il corteo la vedova, il figlio Giacomo, la nuora. Nella tomba riposa il figlio Giorgio, a cui non fu dato nell'ultima guerra, di tornare come il padre era tornato dopo l'affondamento della VIN nel porto di Trieste e dopo la beffa dei bucari. Il figlio Giacomo, la nuora. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.